In questa puntata, Piano Vaccini, non sprecare e non ritardare nessuna dose. DEFRA, integrazione alla nota di aggiornamento. Le priorità del piano regionale seguono quelle definite a livello nazionale. Il modello organizzativo messo a punto deve necessariamente tenere conto della specificità dei singoli ambiti territoriali, ma il principio di fondo della campagna vaccinale toscana risponde al principio non sprecare e non ritardare alcuna dose disponibile. Premesse, l'assessore alla sanità Simone Bezzini è intervenuto in consiglio a indicare le linee attuative del piano vaccinale. Ne ha seguito un lungo dibattito. Intanto, dalla comunicazione che oggi l'assessore ha fatto, mi pare sia evidenziato che i compiti fondamentali che una regione deve avere e deve svolgere rispetto al piano vaccinale sono stati svolti in maniera importante. Il primo è quello dell'organizzazione della campagna vaccinale. La Toscana ha organizzato due canali importanti, uno con gli hub e tutti i spoke organizzati con il sistema sanitario regionale che sono serviti per vaccinare il personale sanitario che ora stanno vaccinando le categorie che si sta vaccinando con AstraZeneca. Abbiamo attivato per prima regione la rete dei medici di medicina generale che, ricordo, fra ottobre e novembre ha vaccinato 1.400.000 persone con il vaccino per anti-influenzale. Quindi abbiamo attivato una rete importante che può sostenere una quantità di vaccini importanti che noi speriamo nelle prossime settimane arriveranno. Sul lato delle priorità abbiamo dato priorità alla resilienza del sistema sanitario e che si sta concludendo. Abbiamo vaccinato tutti i sanitari. È importante che in un'epidemia quel sistema regga. Abbiamo vaccinato gli ospiti e gli operatori dell'RSA e la Toscana anche dell'RSD, cioè delle residenze sanitarie per i disabili, che sono state tutte vaccinate in Toscana. Noi chiediamo ora anche alla luce di quelle che sono le novità rispetto all'utilizzo del vaccino AstraZeneca che sono arrivate con la circolare di ieri, che si vaccinano fin da subito i caregiver e i familiari dei gravi disabili e delle persone estremamente fragili immediatamente con il vaccino AstraZeneca e che si anticipi alla prima fase insieme agli ottantenni anche le persone estremamente fragili, così come definite dal piano nazionale, sono i gravi disabili, sono gli oncologici e tutte le altre categorie che se colpite dal virus possono subire effetti molto gravi. E infine abbiamo appoggiato la strategia del Presidente rispetto all'acquisizione di nuovi vaccini. La Regione non fa proclami come fanno altre Regioni sull'acquisto a destra e manca in solitaria di vaccini, ma sostiene la necessità sui tavoli nazionali e quelli europei di aumentare la quantità di vaccini disponibili e la produzione a livello nazionale e anche regionale di vaccini e anche degli altri farmaci innovativi. Noi pensiamo che non ci sia niente per cui essere entusiastico, abbiamo sentito entusiasta l'assessore Bezzini quando ci ha detto che 250.000 toscani sono stati vaccinati, gli ho ricordato in aula che in Toscana ci sono 3.730.000 persone, il fatto che ad oggi se ne sono vaccinate 250.000 non ci rasserena per nulla ma ci rende preoccupati. Per questo uno dei due atti che presentiamo oggi è la richiesta a Gianni di farsi promotore presso la conferenza Stato-Regioni di sospendere i brevetti, di espropriare i brevetti delle aziende farmaceutiche titolari dei vaccini e di produrli in proprio, di farli produrre al tessuto industriale farmaceutico italiano e toscano. Seconda cosa, a chi lo diamo? Noi non riteniamo che si debba aprire una gara tra lobby, io sono un avvocato, la lobby degli avvocati, lo dico chiaramente, è riuscita a ottenere la vaccinazione per la propria categoria, io non toglierò, nonostante che sia a favore dei vaccini, io non toglierò una dose di vaccino a un ammalato. Si deve andare non per categorie professionali o per categorie sociali ma seguendo dati oggettivi, prima le persone malate, quindi più deboli, secondo per fascia d'età. Chi lo deve dare? Noi lanciamo dei suggerimenti, lanciamo una proposta seria, per esempio di aprire agli studenti di medicina del quinto e sesto anno in cambio di crediti formativi. Chiediamo di estendere la possibilità di fare le vaccinazioni ai farmacisti nelle farmacie, dopodiché appunto dove? No, e anche su questo non abbiamo sentito una parola da parte di Bezzini, no ai tendoni, no alle pagode di Arcuri. Utilizziamo piuttosto strutture pubbliche tipo caserme, palazzetti dello sport, stadi, palestre, oppure strutture private che hanno sofferto questa crisi come i centri congressi, come gli hotel che hanno a disposizione questo tipo, gli auditorium e via dicendo. Poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti. Abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente, anche qualche cosa parecchio di più. È stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna. E' stato anche contestato il fatto che qualche altro presidente di regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita e conseguentemente per i toscani credo che le cose debbano essere cercate, non aspettato che venga dall'alto. Per cui questa comunicazione sui vaccini è uno status che riteniamo piuttosto deficitario. I criteri così tanto entusiastici non credo che dobbiamo considerarli tali. Io credo che dobbiamo metterci a pancia sotto e cercare di aumentare la vaccinazione, aumentare i vaccinatori perché poi si rischia di perdersi nei meandri burocratici che impediscono, come è successo a dei medici della mia provincia di Grosseto, praticamente hanno saltato di due ore la possibilità di inserirsi nella piattaforma e quindi sono rimasti al palo. Un dato positivo in Toscana, il fatto che 260.000 persone sono già state vaccinate, c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari, ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico. Eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per prima, allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultraottantenni e queste sono richieste che avevamo avanzato, così come volontari del 118, la protezione civile. Ora chiediamo ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati, tutti i malati cronici, malati oncologici. Queste persone che vivono in condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento, ma anche massima attenzione alla loro cura. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali. Quei lavoratori che erano essenziali quando c'era il lockdown, ovviamente non soltanto le farmacie che sono state già inserite in questo percorso, ma anche per esempio una cassiera, un commesso di un mercato, di un negozio di distribuzione, alimentare, un impiegato delle poste, un impiegato di una banca, tutti quei servizi che in termini essenziali non hanno mai interrotto di erogare servizi ai cittadini, hanno bisogno di essere considerati soggetti da vaccinare quanto prima. Una comunicazione molto articolata, però a nostro avviso rimangono senza risposte molte domande che sono forse quelle che più interessano i cittadini e noi consiglieri regionali, ossia quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del commissario Arcuri, quanti sono stati i volontari che si sono offerti per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio. Insomma, tante cose rimangono senza risposta. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260 mila toscani su oltre 3 milioni e 700 mila abitanti. Se andiamo di questo passo, i toscani saranno vaccinati fra oltre tre anni. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al Presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma perché non arrivano i vaccini, si facciano sentire. Potremmo arrivare al punto in cui, da partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, i vaccini si devono fare. Vanno alle case farmaceutiche, fanno chiudere i ristoranti, fanno chiudere gli stabilimenti balneari, ci tengono in casa per tre mesi, fanno chiudere tutte le attività commerciali, dicano pure alle aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini, ci dispiace, dateci il brevetto. Perché se non siete in grado di garantire le dosi necessarie per vaccinare i nostri cittadini in tempo utile, per fermare la pandemia sanitaria, per far riprendere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi e allora quei brevetti devono diventare patrimonio dell'umanità. Perché quei brevetti servono a salvare, in un caso, le vite e dall'altro anche la nostra economia. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con i voti favorevoli di PD e Italia Viva, la proposta di delibera integrazione alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, respinti quattro emendamenti presentati da Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Si tratta, per quanto riguarda il 2021, di una programmazione che investe all'incirca un miliardo e 600 milioni di euro, di cui la più gran parte è destinata al settore delle infrastrutture, della viabilità circa il 48% di queste risorse e l'allocazione di queste risorse è prioritaria in alcuni settori strategici, come quello dell'economia circolare o ancora quello del successo formativo e scolastico o ancora quello dedicato al progetto Giovani Sì, alla tutela del diritto e della dignità del lavoro. Si lascia molto perplessi perché cerca di toccare tutti i temi, ma lo fa in maniera o superficiale o senza quel cambio di passo che ci aspettavamo di sentire in una situazione economica come quella che sta vivendo il nostro paese. Per colmare il digital divide vengono investiti 300 mila euro in un anno. È una somma ridicola. Si parla di turismo e si investono 6 milioni per il comparto turistico e non si scrive una riga su un cambio di mentalità. La nostra posizione ovviamente è una posizione fortemente critica. Deve essere incentivata la progettualità. Dobbiamo sostenere da questo punto di vista i comuni. Dobbiamo cercare di lavorare molto di più e in maniera molto più efficace. Chiedevamo alla regione di fare un salto di qualità nella gestione delle risorse, dove mettere, nelle infrastrutture. Come pensare, come ricostruire la filiera del turismo in Toscana. Quali sono le leve di promozione, per esempio. Noi facciamo tanto affidamento su promozione toscana, sulla fondazione Sistema Toscana per portare nuovi turisti in regione toscana. La Toscana fa 45 milioni di turisti, la regione Veneto ne fa 67. È mai possibile che la regione che in Italia detiene l'80% del patrimonio culturale faccia meno turisti delle altre regioni. Ecco, in questo documento non c'è niente che parla al turismo, non c'è niente che parla alle imprese. Possiamo dire che questo documento economico e finanziario è oggi fuori tema. perché si ricollega ad una cornice che è quello del piano regionale di sviluppo che deve essere rifatto ed oggi questa programmazione economica e finanziaria è un copia e incolla di atti, di progetti che sono 24 e che fanno parte di un vecchio percorso. Il Consiglio regionale ha istituito una nuova onoreficenza intitolata Le Ali del Pegaso destinata ai giovani sotto ai 35 anni. Ma è un'idea che mi è venuta non appena sono stato eletto presidente del Consiglio regionale. Quello di cercare di raccontare le storie migliori dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze dandogli un riconoscimento, il simbolo della Toscana che guarda al futuro. Le ali del nostro Pegaso sono esattamente il segno della Toscana che vuole ripartire, che vuole rialzare lo sguardo. E quale modo migliore se non premiare i nostri ragazzi che eccellono nella cultura, nello sport, nella ricerca. Grazie per la visione!